L'assessore Simona Minelli ha confermato dati positivi sui servizi sociali, dopo l'intervento dell'assessore Mancini, che ha parlato di agevolazioni per le famiglie in difficoltà e il mantenimento di beni e servizi per tutta la popolazione. Gubbio, capofila della zona sociale numero 7, grazie alla gestione associata, ha intercettato fondi europei per circa un milione e mezzo. A bilancio, 119 mila euro per Dopo di Noi, 190 mila per domiciliarietà di anziani non autosufficienti, 243 mila per progetti di vita indipendente per persone con disabilità, 185 mila ancora per il progetto Family Help, 511 mila per il progetto Exprar, 370 mila per reddito di inclusione e reddito di cittadinanza. Restano le misure di sostegno a famiglie in difficoltà erogate da Comune e Caritas. Ammonta a 2 milioni e 100 mila euro la spesa totale 2019 in ambito educativo. Da segnalare il progetto IESA per l'inserimento di pazienti psichiatrici e adulti in contesti familiari esterni che è in progettazione. Minelli ha annunciato l'evento finale di un progetto laboratoriale sul rap che si terrà il 21 febbraio con il rapper Siaone. Di sussidiarietà ma anche di innovazione ha parlato l'assessore Gabriele Damiani. Il pensionamento di alcuni dipendenti ha portato all'accorpamento di alcuni servizi, tra questi già avviato quello di polizia mortuaria e ufficio di Stato civile. L'associazionismo resta punto focale nell'attività di Damiani, ad esempio in campo sportivo, tanto che l'assessore ha annunciato la formazione di una consulta dello sport. Sarà finalmente dato il via al liter per il tracciato ciclopedonale sull'ex ferrovia Fossato di Vico-Monte Corona, per 3 milioni di euro, di cui 2 milioni da Regione Umbria e 1 milione dalla Fondazione Carisp. Uno dei punti focali del nuovo programma, in termini turistici, sarà l'ampliamento di iniziative a carattere anogastronomico. Per sottolineare la bontà dei prodotti locali, l'assessore Giovanna Uccellani ha presentato il marchio Deco, denominazione comunale, per la tutela di alcuni prodotti originali come crescia, tartufo, miele e tra gli altri la ceramica. È stata intanto installata la nuova targa alle porte del comune, che riporta la scritta città di antica tradizione ceramica. Il comune è parte attiva nell'associazione italiana Città della Ceramica. Nell'aprile 2019, inoltre, è stato sottoscritto l'atto costitutivo dell'associazione Strada della Ceramica in Umbria, con i comuni di Deruta, Orvieto, Gualdo Tadino. Sarà bandito un concorso tra singoli studenti delle scuole d'arte, per realizzare il logo e una mostra itinerante tra i quattro comuni e al Senato. Ma se Gubbio vuole tutelare le tradizioni da un lato, sta crescendo anche l'innovazione. L'attivazione della fibra ottica regionale è ultimata e a fine gennaio tutte le scuole saranno collegate. Sarà sottoscritto un protocollo tra comune e dirigenti scolastici affinché il primo si faccia carico del 50% del costo di connessione annuo delle scuole. La sede di Digipass nel 2019 ha ospitato oltre un centinaio di eventi e accolto migliaia di persone. Quest'anno anche lo sportello di Umbra Acqua sarà trasferito in via Gioia nei locali Digipass per tutte le operazioni di servizio al cittadino. Gubbio Smart City, infatti, ha partecipato al progetto di Wi-Fi Umbria per realizzare 10 punti di connessione Wi-Fi gratis, con capienza di 1000 accessi per ciascun punto.